Dietro queste scene del crimine, dietro queste armi letali, dietro questi delitti premeditati, ci sono due micidiali. Scrittori! Direttamente dalla Svezia arrivano i signori in giallo Henning Munker e Camilla Lackberg. Sulla F, gli appuntamenti con la fiction ispirata alla letteratura continuano con Giallo Svezia, in collaborazione con Marsilio Editori, dal 26 gennaio sulla F.